Supermutante, supermutante Claudio, vieni! Vieni un attimo solo, qualche divertente di oggi Vieni, non ho più Buon bello, vado come al bolo Vado a capire Cinque minuti dal FG Conner Sono 146 che timo dalle vittime del terremoto che ha colpito il Cile E le centinaia di persone sono ancora sotto le macerie a consulzione Siamo arrivati in una fine scena, sarebbero fatto 100 miliardi senza testi Un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo Un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo Un uomo, un uomo, un uomo, un uomo, un uomo Ehi, siamo arrivati. Guarda, super mutande. Super mutande. Ehi, ciao.